Subito, andiamo in ordine Rido perché ragazzi se ti schifpa la prima cassa c'è da ridere Vai, andiamo, 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 andiamo È la seconda cassa che ha Raga, follia, follia veramente Corvo ce l'ho già, come corvo, vada Ehi là gente, benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo tornati su Zero Two Hero Quella serie dove ci sono delle regole Ebbene sì, l'altra volta ve l'ho ricordato un pochettino troppo tardi Ma oggi ve lo ricordo subito, infatti la prima regola è mettere un bel mi piace Sì, poi ci sono quelli che sono apparsi a schermo Ma la regola del mi piace comunque vale ragazzi Stiamo vedendo che l'ultimo episodio ha superato i 2300 mi piace C'è da dire che nell'ultimo episodio abbiamo sbloccato Crow Parlo ovviamente di Zero Two Hero Box Opening ragazzi Perché oggi lo vedete al titolo, parliamo di Box Opening Però avete anche visto che eravamo nella Jurassic Splash 7 Non siamo tornati dietro nel tempo Siamo qui per recuperare un pochettino le ultime cassettine che sono rimaste in questo pass E cominciare ad aprire un po' delle prime cassettine del pass nuovo Troveremo qualcosa? Non lo so Potrebbe essere anche il nostro primo Box Opening buco nell'acqua Dobbiamo dircelo, il rischio c'è I problemi da trovare sono ancora tanti Ci sono Ems e Stu, per carità 4 epici, anzi 5 scusatemi con Griff 8 mitici, 4 leggendari e i cromatici No vabbè, in realtà ce n'è di roba da trovare Però, insomma, la rarità è comunque alta Quindi, ci va pazienza Partiamo direttamente con qualcosa di diverso Col camion di trofei C'è una cassettina Filiamocela Vai 3 skip Colt Daina Brock Va bene Non ho ancora cominciato a livellare i brawler in questa serie Ma lo farò molto presto Iniziamo a vedere le cassettine Eccola qua Mega Box Subito Diamo in ordine Stiamo molto calmi Quando tu trovi un leggendario La percentuale di trovare un altro si abbassa drasticamente Quindi qua non ci può essere un leggendario Però, fossero anche due epici Non sarebbe male Perché comunque Gadget e Star Power non ne posso trovare Questo è anche il bello di non essere maxati Vabbè, ma nel mio caso non sono proprio neanche livellato E quindi Cioè, per me il video è finito qua, ragazzi Cioè, io il video lo chiudo qua, eh È un peccato Perché Cioè, c'è tutto Tutto sub Cioè, proprio Capite? Ragazzi, ci vanno i guanti Per fare un box opening così Vai Piper per 10 Shelly per 11 Rido perché, ragazzi Se ti skip alla prima cassa C'è da ridere Colonello Ringhio Per 20 Bea Per 26 Attenzione Primo skip Luminoso, signori 2 skip Luminosi così 41 bulli Allora, fermi Ragazzi, fermi 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 Ditelo in chat Ditelo in chat Ditelo in chat Corvo ce l'ho già Come corvo Fada No, raga No, fermi Alcuni dicono Se esce Mortis Io chiudo il video qua Non sto scherzando Si interrompe il video Se ho trovato Mortis E ci troviamo Direttamente Nel prossimo episodio Che sarà Un episodio full Mortis Perché già l'avevo detto l'altra volta Adesso me l'hanno pure baffato Raga Vai Oppa Cromatico Subito così Bell Cromatico Ragazzi Fermi Tutti Fermi Tutti 3 2 1 Vai Oh Doppio cromatico Ragazzi Doppio cromatico Ma what Ma come è possibile Sta cosa Ballol Due cromatici Ragazzi Sono passati Comunque Più di 2 mesi Quindi la loro rarità Non è considerabile Cromatica Ma epica Però ci sta Ci sta Ma eh raga Adesso sono indeciso Perché Cioè io volevo fare Sto video Almeno per completare Tutto il vecchio pass Che tra l'altro Aspetta Appunto per completare Il vecchio pass Andiamoci a prendere I punti energia Mettiamo levemente Sui brawler Ma tra l'altro Abbiamo anche 8 bit Che abbiamo sbloccato Nel video precedente Devevamo usarlo 8 bit Ragazzi Adesso lo proviamo Facciamo dare un po' di punti E che cacchio devo fare Cioè Non so cosa faccio Apro ancora Però se poi trovo Un altro brawler Cioè raga Io non vorrei Non vorrei essere Sfortunato C'è un'altra mega Ma quante casse ci sono Ragazzi esce ancora qualcosa Qua secondo me Vabbè magari no Magari no Vai andiamo 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 Ma signori ma Ma io non ho mai Io non ho mai registrato Un video così È la seconda cassa Che apro Ma seriamente Ragazzi Io ho paura Che sto video Veramente Verrà interrotto Molto bruscamente Ho detto prima il perché 195 di oro 20 rosa 20 rico che worka 20 penni che worka pure lei Perché era dopo rico Quindi questa è una conseguenza Un effetto A catena Brock Piper E il prossimo Ditelo voi Ragazzi non può essere un leggendario L'ho detto già prima Il leggendario Si deve essere abbastato Alla percentuale Al massimo può essere un mitico Al massimo 3 2 2 1 Vai Ed è lui Ed è l'uomo col martello Ed è l'uomo col martello Con 200 doubler Signor Ma signore Ma che cosa cacchio Sta succedendo oggi Ma cosa cacchio Sta succedendo oggi Ragazzi Io mi fermo Io mi fermo Basta Non andr'avanti Raga Dai 5 Adesso 5 Dai basta 5 Eh ok Ok Shelly Ho perduto 3 casse Il video di ferre Ho perduto 3 casse 43 punti per cro Non è male Vai 5 ok Corvo 20 è il primo Rico per 28 Bel per 32 Bia per 36 Ok Non dovrebbero essere comunque Troppissime casse 5 ok Shelly per 10 Link per 12 Frank Jackie Carl Va bene Una big box 3 skip Daryl Barley Piper Doubler Roll box Questa proprio Ce la mangiamo Ok 100 punti Bah si Buttiamoli sul primo che capita Raga So Bibi Che Bibi non ne ha Mega cassa Vai 5 skip Colonnello per 9 Energetic per 9 8 bit per Non per 8 Ma per 10 Bel per 34 Brock per 68 Buono Brock Doubler anche qui Ok Andiamo sulla big box Ragazzi 3 skip 59 8 dina 8 surge Pocho per 30 Ok ci siamo Dai non troviamo più niente Ma Ragazzi Ma non è normale Non è normale Cioè Non è normale sta cosa Ma cos'è che Lo lasciate lì un po' Secondo me hanno stagionato Ragazzi Nita per 10 Colt per 12 Bull per 23 Colonnello per 25 Pia per 36 E l'ultimo E l'ultimo me lo dite voi E l'ultimo me lo dite voi ragazzi 3 2 1 E Vai Ragazzi Lu Vabbè ma abbiamo trovato 3 cromatici oggi 3 cromatici 500 punti Che se li becca tutti quanti Lu I Scusate per la battuta E 3 Casse enormi dove non penso che troveremo più niente 64 Frank per 10 B per 11 8 bit per 13 Ancora 93 10 12 16 Dai ultimissima E Ragazzi Andiamo a concludere Il pass della season dei dinoseuri Con Bombardì Ma non ho 3 Ma non ho 3 Ragazzi Ma cos'è sta cosa Ma cos'è sto video Non so a che titolo avrò messo questo video Non lo so Ragazzi devo andare Devo andare Non mi posso fermare 3 2 1 E Vai Raga Basta Basta Bo Basta Bo Basta 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 Toglierei gentilmente Il pass Ah no Non sparisce Per ora Non sparisce poi dopo Raga Follia Follia Veramente C'ho 30 brawler praticamente Sotto account Va bene Proviamo Proviamo ne almeno uno Di sti brawler Uno Posso provarne uno Uno dico Uno solo Aspetta che In che modalità sono Ah in brawl ball Va bene Ci sta No ci sta brawl ball Non è male Non è male Ok Vabbè ragazzi Belle Top Belle top Veramente Non so bene livello uno Quanti danni fa Mi sa un po' pochi Spoiler Vediamo un po' 1100 Un po' pochino eh Un po' pochino Che che ne ha di digitata Ma 500 di target E ciao Vabbè dai ci sta Ci sta Vabbè ragazzi No comment No comment veramente Io Io Veramente gioco A brawl da anni Una roba Cioè ho avuto tanti box opening Fortunatissimi Non fortunati di più Fortunatissimi Ma così ragazzi Cioè io capisco Che i cromatici Perdano rarità Poi andando avanti Anche lui ragazzi Se andiamo a vedere Dovrebbe essere Considerato Un epico Va bene Ma io li ho trovati Veramente come se fossero Dei rari Ma neanche Ho fatto più fatica A trovare Rosa Ed è il primo In sta serie Che quelle lì Cioè ho aperto Veramente pochissime Casse Comunque nel frattempo Ci siamo portati a casa Anche la win 8 coppe pure su bell Ragazzi Io non so Qua ci avendo a pushare Un mese Praticamente Su sto account Cioè non Quanti Quante coppe Possiamo fare Con sto account Credo che non sarà Un problema Sbloccare Ems E Stu E completare L'intero cammino Dei trofei Senza neanche Livellarci Poi potremo Cominciare a pensare Anche di livellare i brawler Si E lì sarà un delirio Secondo me Signori io direi che Gli altri brawler Ce li proviamo poi Nei prossimi episodi Con calma assieme Direi soprattutto Che cominciamo a farmarci Altre casse Anche per quanto riguarda Questo pass E direi che vi ringrazio Tantissimo per la visione E' stato uno dei box opening Davvero più belli Ogni volta sembra Di aver raggiunto Il massimo Invece boh C'è qualcosa Di più E insomma Vi ringrazio tantissimo Ci becchiamo alla prossima Ciao belli